Circa 110.000 i veronesi ad oggi non vaccinati nella fascia d'età tra i 20 e i 70 anni. Questi cittadini a partire da domani per lavorare e non rischiare sospensioni e sanzioni saranno costretti a sottoporsi ogni 48 ore al tampone. Sono tanti i dubbi le domande che in questi giorni si rincorrono. A poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde, il direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi ha convocato la stampa per informare del potenziamento dei punti tampone e non solo. Da domani c'è l'obbligo del Green Pass per tutti quanti i lavoratori. Quindi naturalmente come Ulss ci siamo. È un fattore che in qualche modo, se volete, non è proprio vero e proprio di sanità pubblica, però rafforzeremo i nostri servizi. Da domani parte anche un servizio di prenotazione in modo tale che ci si possa programmare perché l'altro grande aspetto importante per chi dovrà affrontare questo ennesimo problema è quello di riuscire a programmarsi la settimana. Quindi anche da noi, come sta succedendo nelle farmacie, come sta succedendo nel mondo del privato che incrementerà di moltissimo l'offerta, sarà necessaria la prenotazione. Chiaramente la preoccupazione che in qualche modo un po' tutto quanto il sistema in questo momento ha è che l'offerta sia uguale alla domanda. In questo momento sembrerebbe di no, quindi quello che cerco di trasmettere oggi, anche con questo messaggio, è un minimo di tranquillità per i primi giorni che necessariamente dovranno essere di assestamento affinché queste due cose coincidano. Ci sarà un impatto iniziale importantissimo domani, quindi tutti vorranno il tampone per domani. Ci si dovrà in qualche modo far sì che invece non ci siano dei picchi, che ci sia metà oggi, metà domani, metà dopo domani e così via. Quindi questo è un po' il messaggio anche che volevamo mandare oggi. L'Ulsa incrementa la presenza nelle aziende per quanto riguarda i tamponi? L'Ulsa insieme all'azienda ospedaliera e insieme a tutte quante le farmacie arriverà già oggi e domani a effettuare circa 11.500-12.000 tamponi. Fate conto che fino alla scorsa settimana riuscivamo a farne 6.000, quindi abbiamo raddoppiato. La speranza è di riuscire a aumentarlo ancora, però andiamo a scontrarci purtroppo con quella che è la carenza del personale che con la ripresa delle attività deve fare sanità.